Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0 Secondo la scienza, l'umanità si è evoluta naturalmente sulla Terra per diventare la specie più intelligente dell'universo dal momento che non ci sono prove sulla vita altrove ma la verità è esattamente l'opposto Gli umani non sono soli nell'universo non siamo le specie più intelligenti e non evolviamo naturalmente sulla Terra Innumerevoli civiltà aliene popolano questa galassia molti sono milioni di anni più vecchi dei nostri Gli alieni più avanzati visitano la Terra da molto tempo alcuni sono responsabili della semina della vita umana sulla Terra e su altri pianeti compatibili Ciò significa che l'umanità non ha nemmeno avuto origine sulla Terra quindi, tecnicamente, parlando, siamo anche alieni anche se abbiamo vissuto qui per così tanto tempo che lo vediamo in modo diverso Gli alieni occupano ancora questo pianeta vivendo in basi sotterraneo subacque o all'interno delle montagne e viaggiando su navi mimetizzate attraverso tunneli sotterranei o portali di teletrasporto Sebbene ci siano almeno 50 diverse specie alieni sulla Terra solo alcune sono altamente negative o altamente positive Ne parliamo comunque dopo aver lanciato la sigla I negativi usano l'umanità come risorsa naturale Gli alieni neutrali sono qui principalmente per vivere, osservare e imparare Gli alieni positivi sono interessati ad aiutare gli individui a fuggire dalla fattoria dell'energia e diventare sovrumani In realtà le cose sono più complicate dal momento che qualsiasi fazione aliena può avere molteplici scopi ma l'obiettivo è che gli aspetti negativi cercano sostanzialmente di usarci e gli aspetti positivi cercano di aiutarci I tipi più comuni di alieni sono il grigio, il rettile, la mantide e il nordico I grigi sono esseri robotici di bassa statura con grandi teste, pelle chiare e occhi scuri I rettili sono esseri alti e intelligenti con pupuille lacerate e pelle squamosa Le mantidi assomigliano all'insetto della mantide religiosa solo di dimensioni umane I nordici non possono essere distinti dagli umani ma tendono ad essere più muscolosi con capelli esclusivamente biondi e occhi molto chiari Non è possibile affermare che una specie aliena sia assolutamente positiva e un'altra assolutamente negativa poiché all'interno della stessa specie possono esserci esempi di entrambi le classi ma per alcuni tipi l'orientamento è più delineato che per altri Questi alieni non sono fisici come noi possono smaterializzarsi e passare attraverso i muri viaggiare indietro nel tempo spostare gli oggetti con le loro menti parlarci telepaticamente e diventare invisibili Questi sono tutti poteri inerenti allo studio sovrumano e in effetti sono più avanzati perché vivono in una dimensione superiore che compenetra la nostra Per entrare nel nostro mondo gli esseri di una dimensione superiore devono concentrarsi su una gamba più stretta di vibrazioni per intercettare la nostra dimensione altrimenti restano invisibili per noi Siamo come pesci ignoranti che le persone fuori dall'acquario ci guardano persone che possono cogliere di farsi conoscere toccando il bicchiere o mettere le dita nell'acqua Tecnicamente parlando e sebbene provengono da una dimensione superiore questi esseri esistono tra noi e questa dimensione Oramai dobbiamo essere consapevoli che non siamo soli e questo non è fantascienza In realtà non dobbiamo vederli fisicamente per crederci perché le prove sono tutte intorno a noi Adesso una conferenza con un tema straordinario si terrà in Vaticano il 12 febbraio L'universo e possibili incontri con altre civiltà Come è noto, il cattolicesimo rappresenta una delle correnti religiose più importanti al mondo Possiede uno dei beni culturali antichi e moderni ma poco è stato reso noto Le informazioni accumulate da diversi secoli suggeriscono che gli studenti UFO sanno che questa organizzazione sa più di quanto voglia riconoscere sugli incontri con razze aliene e sull'esistenza di oggetti volanti sconosciuti A partire dal 2 marzo 2020 il Vaticano consentirà a diversi ricercatori di molti paesi di accedere alle informazioni dalla fine del pontificato di Papa Pio XII cioè dal 1958 ad oggi È considerato uno dei centri di raccolta storici più importanti al mondo Ha circa 150.000 documenti 650 archivi diversi in un'estensione di 85 km lineari di scaffali di cui, si dice, permetterebbe di conoscere otto secoli di storia Tutto suggerisce che potrebbe esserci un'apertura per la rivelazione dell'esistenza della vita extraterrestre nell'universo e forse nel nostro mondo Il 12 febbraio la conferenza si terrà con il titolo L'universo e i possibili incontri con altre civiltà sponsorizzate dal Centro Ufologico Nazionale un'organizzazione italiana che ha tra i suoi membri personaggi legati al Vaticano e al governo italiano Sarà presentato da Vladimiro Bibolotti un giornalista freelance esperto del fenomeno UFO dal 1975 e membro di quel centro dal 1995 di cui è stato presidente fino al 2019 Ha un'esperienza che lo accredita come specialista in ufologia e ha anche connessioni che lo ha collegato al Vaticano Bibolotti ha menzionato nel 2014 che se si verifica un contatto massiccio o la rivelazione dell'esistenza della vita extraterrestre allora tutte le religioni dovrebbero unirsi a nuovi scenari oltre a creare un'altra visione del mondo Questo centro è collegato all'organizzazione fondata da Tom Delonge che dovrebbe avere partecipato alla conoscenza pubblica del video UFO della Marina degli Stati Uniti Nel 2019 il fenomeno UFO è stato caratterizzato da un riconoscimento delle agenzie nordamericane che sta prendendo una nuova svolta per le sue conoscenze Nel campo clericale ciò che è legato al fenomeno UFO è considerato alieno e negato ma presubibilmente cambierebbe la sua posizione irriducibile Pensi anche tu che le informazioni che riveleranno riveleranno ciò che tutti ci aspettiamo? Grazie per l'attenzione vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima Grazie per aver guardato il video